Ciao a tutti ragazzi e bentornati su BioVideogames Oggi apriremo 3 pacchetti questi qui da 50.000 crediti e 4 pacchetti da 7.500 In tutto andremo a spendere 180.000 crediti Ok possiamo partire Primo pacchetto da 50.000 crediti Via Dovremo un cazzo come al solito Si schiffa Oddio Mignoletto Madonna che schifo Cioè tu speri 50.000 crediti per trovare qualcosa No poi quando apri un pacchetto ti trovi Colocini quello che vale di più Va bene dai Carto per tutto Sì Che tieni qua? Secondo pacchetto Così andremo a spendere già subito 100.000 crediti E guardiamolo questo Secondo pacchetto Chiudiamo gli occhi Ma che cazzo Ah Chiudiamo cosa? Non stiamo guardando Almeno Tu credo è errato Ok Ora li apriamo Ma oddio che schifo Ecco Ecco l'unico 86 Che non vale un cazzo Lui No Aspetta David Lewis Lampa Non è lui Non è solo 300 Ma poi i transfer C'è di tempo Ok cazzo Ma che schifo Perché non troviamo mai niente Quando facciamo il cazzo Cioè già l'ultimo pacchetto Dai troviamo lo sto Di merda Aspetta Ok Ultimo pacchetto Da 50.000 crediti Ci giriamo No dai io Che guardarlo Dai Sì Ma cosa Poi ti dice C'è di Che schifo Cos'è sto Che schifo Di pacchetti Perché Che schifo Oddio Ancora Adomizi Abbiamo spegato 150.000 crediti Per trovare coal Dai apriamo quelli Da 7500 Abbiamo 4 pacchetti Poi Abbiamo spegato 150.000 crediti Per trovare coal Wow Oh ma Oddio Cos'è sta roba Oddio Oddio Dai Mettiamoli tutti Che schifo Messi porta a fortuna Madonna Ma cos'è sto Cos'è che succede oggi Non è possibile Che merda Vediamo io Shaktar Bello Che merda Nello nervoso Penultimo pacchetto No E lì dentro C'è la Iovi Tchifo Che ne fa A me è un giocatore Caballier Ancora sto caballier Senti caballier È da tutte le parti Sto qua Perché lo metti C'è uguale L'ho venduta A 600 Eh dov'è Scara Sì Cosa questo è Beh È schifo Ma è una gioia No veramente che pacchetti di verde L'ho trovato solo David Luiz Sì È del PSG Comunque E lampard Ultimo pacchetto Tenteremo la fortuna Sacco Che merda Merda Tieni questo Tieni anche Lì Cazzo Guarda Ma quanto Non mi fa le figure di merda Bene il video si conclude qui Sempre la solita fortuna Abbiamo dei pacchetti E Ciao a tutti